Mi chiamo Cristina Semperboni e il mio ruolo in FLEX è un design development process engineer. Il mio nome è Tommaso Borghi e sono un design program manager. Il mio nome è Cristian Riva e mi occupo di systems engineering qui in FLEX. Mi chiamo Massimiliano Nobile e il mio ruolo in FLEX è project manager per progetti di connected healthcare. Sono entrato in FLEX nel 2010, subito dopo il conseguimento della mia laurea in ingegneria meccanica. Sono arrivato in FLEX dopo la laurea in ingegneria biomedica e come primo ruolo sono stata nel quality department come quality engineer. Sono entrato al termine del dottorato in ingegneria elettronica, ho cominciato come hardware engineer, dopo cinque anni sono diventato system engineer aiutando come technical leader lo sviluppo di nuovi progetti e oggi ricopro appunto il ruolo di design program manager. La parte migliore del mio lavoro in FLEX è vedere i prodotti prendere vita da quando si parte da un foglio bianco fino a quando si riempie il primo pallet alla fine della linea di manufacturing così che il cliente possa avere il suo prodotto da lanciare sul mercato. Ciò che mi piace di più del mio ruolo in FLEX è negoziare con il cliente i requisiti di un prodotto che siano accettabili per il team di FLEX e per il cliente. In FLEX ho l'opportunità di collaborare con le nostre fabbriche, penso che questa sia una grande opportunità per me a livello di crescita perché posso essere in contatto con funzioni differenti all'interno di FLEX e anche costruire una rete di conoscenza all'interno di FLEX. La mia più grande motivazione venendo in ufficio la mattina è quella di poter lavorare con i tanti talenti del design center per trasformare semplici idee in veri prodotti. Se dovessi descrivere FLEX in una parola, questa parola sarebbe collaborazione. Attrattivo perché penso che sia il posto in cui uno studente di ingegneria si immagina di lavorare una volta completati gli studi.